È la notte della strage di Corinaldo, tra il 7 e l'8 dicembre scorsi e in un autogrill lungo l'autostrada un gruppo della banda dello Spray si imbatter nel trapper, sfera e basta. L'incontro casuale era già emerso nei giorni scorsi dalle carte dell'inchiesta di Ancona che ha portato all'arresto di 7 persone ma ora spunta anche un video. Lo pubblica la gazzetta di Modena, si tratta di pochi secondi di una clip in cui Sfera e Basta viene affiancato da quello che gli sembra un fan. Modena cosa pensi? Stai facendo i soldi mentre voi parlate parlate, guardate. Quel giovane a caccia di selfie appena dietro di lui è invece Ugo Di Porto, uno dei giovani indagati di ritorno dalla Lanterna Azzurra dove secondo l'accusa aveva appena provocato sei morti con i suoi complici. Il video, riporta la gazzetta, è stato postato dallo stesso Di Porto sul suo profilo Instagram poi rimosso. Incontro migliaia di persone ogni giorno che mi chiedono una foto, ha commentato Sfera e Basta e l'idea di aver incontrato anche uno di loro mi fa davvero schifo, tanto quanto la disinformazione che viene fatta in questo paese. Hanno provato e proveranno a infangare il mio nome, ha scritto il trapper, ma la cosa non mi disturba perché la soddisfazione di sapere che quei mezzi uomini sono stati presi è l'unica cosa importante. Il primo maggio gli investigatori avevano intercettato una chiamata fra Ugo Di Porto e Raffaele Mormone. I due cugini raccontano di quella sera quando, tornando da Corinaldo, si imbattono all'autogrill proprio in quella che doveva essere la star della serata, Sfera. E' solo un pagliaccio, dice Di Porto, che aggiunge, ci stavo per litigare, lo stavo per bussare. Mormone lo ferma, la collana, quella con la chitarra, fra, lì, se non era stato per i morti, te lo giuro, Bard, riferendosi a uno degli arrestati, lì gliela faceva.